Un caro saluto da Raffaele Laricchia, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. L'alta pressione sovrasta tutta l'Europa centro-occidentale, qui persisterà sino al termine della settimana. Insomma ci aspettano altre giornate stabili e relativamente miti per il periodo. Solo dall'inizio della prossima settimana probabilmente l'allentamento dell'alta pressione e l'arrivo di nuove correnti fredde dai Balcani che coinvolgerebbero in modo più diretto il lato Adriatico e il Sud. Però di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda questo GVD ben poco da segnalare, cielo sereno praticamente su tutto l'Abruzzo, qualche nube alta in arrivo in giornata sui settori più interni, quindi prevalentemente sull'Aquilano, non ci saranno fenomeni annessi, saranno nubi totalmente prive di precipitazioni. Le temperature aumentano ulteriormente, le massime fino a 14-15 gradi, con qualche picco di 16 gradi alle basse quote, minime tra i 3 e gli 8 gradi. Il vento sarà debolissimo, il mare calmo. Con questo concluso noi ci rivediamo nel prossimo appuntamento. Grazie.